cominciamo l'entrevista eccomi qua ragazzi buongiorno mi chiamo roger graf roger graf production mio nome è roger sono di origine di venezuela sono qua a verona italia verona da circa quattro anni niente un po di domande che mi ha fatto luca come iniziato tutto allora tutto iniziato praticamente dal nulla ero praticamente tutto iniziato dal mio balcone ero con un amico è un grande amico che si chiama wilfred e il suo nome artistico elgaro music è un artista emergente qua di verona niente eravamo lì a parlare del più del meno e lui lui mi fa guarda come potresti fare una foto va bene faccio la fotografia con il mio cellulare niente dopo mi metto lì su qualche la a cominciare a editare un po il colore tutto quanto a togliere lo sfondo è venuto una cosa carina una roba bella veramente carina e quindi detto guarda e mi piace potrei cominciare a studiare un po niente da lì ha iniziato tutto praticamente tutto questo mondo dell'editing del video montaggio dell'edizione della fotografia ha iniziato tutto da lì praticamente allora un'altra domanda che mi ha fatto luca in quanto riguarda le caratteristiche che deve avere un videomaker allora io vi posso dire sulla mia esperienza che anch'io sono un videomaker emergente in questo mondo qua ho appena un paio di anni circa più o meno facendo questo lavoro qua e le caratteristiche per me sono tante c'è uno deve sempre stare lì sul mondo dell'editing del video cioè non mollarlo mai sempre come faccio io io guardo tanti tutorial della gente professionista in questo mondo qua credo per così imparare un po di più a fare la mia idea perché allora ogni videomaker deve essere originale no io non posso copiare a un videomaker o un altro videomaker mi puoi copiare a me certo possiamo vedere le buone caratteristiche dei grandi professionisti di cercare di farlo a la maniera nostra praticamente capito niente devi essere molto creativo perché è una cosa che penso io si viene domani un artista un cantante diciamo di reggaeton di dembow depo e mi fa guarda io vorrei fare un video questo a questa canzone qua l'ascolto me la fa sentire la canzone è un 50 per cento si cerchiamo o riusciamo di fare una bomba praticamente con questo con questo brano ci dobbiamo mettere tanto al video quindi per me è 50 per cento la canzone 50 per cento il video perché il video è quello che la gente vede che la gente guarda su youtube sui social guarda l'immagine dell'artista e le location le ballarine tutto guardano al minimo dettaglio quindi devi essere tanto creativo e fare sempre meglio sempre meglio ok ragazzi un'altra domanda che mi hanno fatto è con chi artisti ho collaborato ho fatto videoclip allora da quando ho iniziato ho iniziato un progetto con il garo music artista come ripeto artista emergente qua di verona lui è della repubblica dominicana fa dembow fa drill fa tra fa un po di tutto ho iniziato con lui dopo piano piano mi sono aperto al mondo praticamente per altri artisti sempre emergenti e non ho avuto ancora dico ancora non ho avuto l'opportunità di fare un videoclip diciamo un artista medio alto però arriverà arriverà il momento ho collaborato con gli artisti los gabianos qua sempre verona un gruppo artistico che fa dembow un po' conosciuto qua sul territorio italiano ho fatto a mortino un ragazzo di crema che fa drill fa tra è molto bravo questo ragazzo qua del mondo emergente della musica abbiamo fatto a sandro rojas un ragazzo cubano a grea haron di aiace si stai guardando questo questo video ti saluto abbiamo fatto un video che sta per uscire praticamente vi asseguro che sarà una bomba e niente piano piano cercheremo di fare un po' di tutto ho fatto un po' di video anche un paio di discoteche in video promozionale un altro video a una scuola di muay thai del box thailandese quindi cerco io di fare un po' di tutto essere un po' versatile per così posso provare un mondo di qua un mondo di là di cercare di specializzare un mondo che mi piacerebbe farlo è il mondo del videoclip musicale però finché arriverà il momento ci impegniamo tanto a fare un po' di tutto allora cosa voglio dire ai ragazzi che vogliono iniziare questo mondo qua come me allora fatelo ragazzi fatelo iniziate a fare quello che vi piace non solo in quanto riguarda il mondo del montaggio del videomaker se a te che stai guardando questo video ti piacerebbe fare il calciatore farlo se a te che stai guardando questo video ti piacerebbe fare l'elettricista studia e farlo e non fermate mai ai vostri sogni perché lo so cosa significa avere un sogno e non cercare di farlo capito quindi io che sono arrivato a questo paese che guarda ringrazio tutto ringrazio di tutto all'italia per darmi l'opportunità di lavorare di fare la mia vita qua con la mia famiglia e di avere l'opportunità di fare questo tipo di lavoro qua del videomaker è una carriera molto costosa vi dico già perché solo un obiettivo ti può costare circa ti faccio una cifra 700 500 euro dipende la macchina anche le luci lo stabilizzatore il computer la tablet il microfono è un sacco di cose però piano piano io non mi vergogno dirlo io ho comprato tante cose usate seconda mano perché siamo alla realtà e non tutti abbiamo la disponibilità economica per comprare tutto di pacca di zero però ci arriveremo arriveremo ragazzi a fare quello che vogliamo e dare una miglior qualità nel video nella composizione del video e fare una bella cosa per il pubblico che ci guarda lì dietro dietro questo obiettivo qua niente ragazzi in quanto riguarda i progetti futuri guarda e adesso abbiamo un paio di video da fare cioè video con un paio di artisti qua a verona è un altro video che sarà il mese prossimo con altri artisti qua di verona e abbiamo un progetto molto importante una scuola anche circa sarà fra due settimane è una scuola di box e niente i progetti futuri qua alla mia testa se ne sono tanti tantissimi spero di farli e niente avanti tutta ben ringrazio a luca per questa opportunità di darmi un po a conoscere io a roger a roger gra qua al crudo praticamente qua questo che vedete questo è il mio templo il mio templo di pace praticamente qua dove dove succede qua tutta la magia qua quindi spero di che questo video vi piaccia e niente ragazzi vi ringrazio ancora fatelo ascoltatemi fatelo e sempre lotta per i tuoi sogni che sono difficile più allora ti dico questa più difficile è che se stai avvicinando a a farlo quello che hai in mente quando il cammino c'è il cammino la strada scusami la strada diventa un po difficile e che stiamo arrivando al punto che vogliamo noi capito quindi fatelo e forza vi ringrazio ancora grazie mille presto già uscirà questa entrevista vi ringrazio ancora e ciao ciao siamo qui a verona roger graf production me potete cercare sul mio social la roba roger graf production instagram e roba scusami che se mi viene lo spagnolo chiocciola roger graf production e il chiocciola roger graf production su stick toka instagram grazie mille ciao ciao